Salve a tutti i miei cari zecchini e ben ritrovati in questo nuovo video di StumbleGuys Era già un bel po' che non lo portavo StumbleGuys perché di solito facendo sempre e solo le live i video non li ho mai più rifatti quindi adesso riproviamo a portare un po' di video A proposito delle live ragazzi, io mi sarei anche un pochino stufato di farle live perché vedo che gli altri video ragazzi non vengono guardati ci hanno pochissime visual, ancor meno like, quindi ragazzi fatemi vedere il vostro supporto volete la live questo weekend? Arriviamo a 50 like in questo video e vi porterò in questo weekend forse fatemi vedere il supporto ragazzi e io vi faccio le live e intanto andiamo a vederci una partita ricordo a chi non è iscritto di iscriversi al canale e attivare la campanellina proprio per le live e commentate ragazzi, commentate soprattutto gli altri video anche la Serkart ragazzi vedo che ha pochissime visual tutti volete entrare nella fan city però vedo che quelli che sono già entrati non scrivono più, non commentano più quindi probabilmente molti verranno anche tolti dalla fan city perché io li guardo i commenti, li leggo tutti ah qui sta morendo e quando vedo che qualcuno poi è entrato e poi non si fa più vivo nei commenti aspetterò ancora un po' qualche qualche episodio e poi lo toglierò direttamente dai però è un casino giocare e parlare giocare e parlare è veramente un casino non ti concentri e vai fuori così alla prima come al solito devo un po' un attimo carburare ragazzi infatti se vedete anche la Serkart ho il video pronto ma non lo sto facendo uscire perché ho visto lo scorso video, lo scorso episodio non è arrivato neanche a 100 visual quindi che li faccio uscire a fare? eh comunque andiamo avanti e vediamo di qualificarci almeno qua dai dai pie che ce la puoi fare eh non c'è Elix a prendermi a cazzotti e c'è sempre qualcuno che deve scivolare chi prende? prende me sempre me tranquilli eh colpitemi sempre me non c'è problema intanto vi ripiglio tutti vediamo se mi riesce niente guardala ma guardate niente da fare niente da fare niente da fare neanche a sto giro speriamo le cascate tutti vediamo se c'è il cecchino che mi aspetta qua sopra no niente neanche a sto giro non mi qualifico neanche a questo giro molto male molto male abbandoniamo abbandoniamo anche questa e giochiamocene un'altra vediamo come va io dopo questa rimetto il vecchietto perché questo drago qui mi ha già stufato poi io sono uno che si stufa subito delle cose nuove dai su avete già messo like? vi controllo allora su veloce veloce bravo piedi così mi piace chi è che ha buttato la banana lì? guarda tutte le palline figurati e levati mamma mia mamma mia poi tra poco uscirà anche l'aggiornamento ragazzi di Istanbul Guys con la nuova mappa e tutte le cosine nuove no oddio 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 ce la devo fare ce la devo fare salta 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 ma dai ma dai ma non è vero ma non è vero che casca tutte le volte dai non passo neanche la prima cioè sono sempre stato scarto ma così veramente troppo via via e rimettiamo rimettiamo il mio il mio caro vecchietto dove sei? il 2.0 o il vecchietto normale? oh è questo è questo il 2.0 usa usa l'ho usato si oh torniamo alle origini vai capisco come è Mario eppure che cavolo allora dai spostatevi di qui che devo passare io mo qualcuno lo fa le scivolate ho appena detto eh dai su vecchietto confido in te vedete il drago speciale super speciale il vecchietto è lui il super speciale mica draghi su draghi toh ora un po' il vecchietto tac ce l'ha avuta da lì dai su dove sono gli altri due che devono passare sono passate finalmente una l'abbiamo passata dai finalmente una è andata come si deve poi vi ricordo anche di iscrivervi al canale di LadyBare ragazzi eh ora poi vi apparirà laggiù in fondo di là di là vi metterò a fine video il talloncino di LadyBare ci cliccate vi iscrivete anche al suo canale diamo sostegno anche a lei guarda guarda le scivolate a chi le fanno tutte a me eh ma il vecchietto non demorde il vecchietto è sempre più forte di tutti vai vecchietto vai tirati su grande vecchietto vedi su di lui ci si può contare mica su draghi e le cose qui vecchietto toh guarda eh tac toh hai visto è agile è vecchio ma è agile dai mamma no shit shit abbandona anche questa ne facciamo un'altra gioca faccio l'ultima però sennò spacco il cellulare ve lo dico è una volta buona che spacco il cellulare almeno quando perdo contro di voi vi guardo in finale rispetto qui perdi esce basta te ne vai dai ora a modo eh non li mettono più tutti i bot eh sai che tutta la gente vera guarda 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 che mi scivono tutte a me e ti sposti mamma mia mamma mia spero che le palline li facciano il loro dovere oh brave brave dai 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 oddio tredicesimo mamma mia devo imparare a fare tutti i trick dai se no casino ve l'ho tagliata perché ragazzi la ruletta dura mezz'ora qui ora vediamo qui come funziona con le 8 wheels mi sa male ma sto schiacciando ma perché non salti va no no niente guarda 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 un'ombriaco lui qui alla guida dai però non curva eh ma è ferma sta macchina cioè è ferma non ho preso non ho preso un acceleratore nemmeno a morire guarda ho perso ho perso anche questa vabbè ragazzi io stacco perché se no lo spacco veramente il telefono è stato oggi quindi mi raccomando lasciate like a 50 like questo fine settimana live noi ci vediamo nel prossimo video ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale di me commentate attivate la campanellina noi ci vediamo al prossimo video ciao Zechini grazie a tutti Grazie a tutti.